buongiorno buongiorno a tutti e vediamo oggi il messaggio dei fiori di questa settimana e vediamo quindi quale fiore ci accompagna in questo ingresso autunnale quale sarà il fiore sorteggiamo una carta ecco qui allora il fiore che ci accompagna all'ingresso dell'autunno è il fiore della vite rossa vine che sembra proprio quasi dire no siamo in tempo di vendemmia questo però è una vite ornamentale no fa comunque fa i grappoli di uva anche dei non sono però comunque non è quella da quale poi noi otteniamo il vino il sugo d'uva o tutto il resto e solo gli uccellini se la mangiano però è molto decorativa e quando cambiano i colori ci dona veramente dei colori caldi bellissimi allora vine è un fiore che troviamo nella categoria dei sette aiutanti e quindi riguarda un po i nostri comportamenti che possiamo adottare in alcuni momenti della nostra vita ma che magari potrebbe essere un comportamento questo che viene adottato cioè proprio nella nella quotidianità quindi diventa proprio una forma di essere che cosa ci dice questo 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 piccolo despota perché in realtà quando se noi andiamo a leggere tutti i testi sui fiori e vine viene descritto esattamente come proprio il despota il comandante colui che poca empatia con gli altri decide e si arrabbia se le cose non vengono fatte come decide lui e che soprattutto lui sa cosa è bene per gli altri non gli piace sentirsi dire no ed è un po totalitario no nel senso che il famoso padre padre padrone comunque comando io decido io e si fa come dico io io so quello che è giusto e posso diventare anche crudele sia nelle parole che negli atti fisici allora la presentazione di questo domani al primo di prima chito uno pensa ok questo dove ce l'ha il lato dove ce l'ha il lato positivo no però andiamo a vedere intanto la pianta come si comporta allora la pianta è la pianta di una vite come tutti conoscete la vigna esattamente la stessa tipo di pianta solo che ornamentale si arrampica quindi si appoggia sugli altri in realtà quindi anche questo ci fa denotare comunque qualcosa una sua sfumatura no qualsiasi capo ha bisogno di un suddito per essere capo e quindi ha bisogno di avere dei sudditi o comunque persone sulle quali appoggiarsi e poter esercitare questo potere e sugli altri quindi è una pianta che si appoggia sugli altri ma che fa delle radici fortissime infatti questa pianta se uno cerca di risradicarla e poi comunque sarà molto difficile stirpare la radice e se anche l'abbiamo abbattuto lei in breve tempo quest'altro anno mettiamo che adesso non solo abbattiamo in primavera lei è già lì che rispunta e ha una velocità di crescita fortissima quindi adatta per fare non so arrampicare coprire delle pareti anche addobbare dei gazebo quindi molto veloce nella si annoda a tutto ciò che trova e con questi suoi ramettini tutti che vanno in circolo no tutti circolari così si annodano e da lì stringono fanno presa e poi dopo cominciano il suo sviluppo così come la persona che fa presa su un'altra su un punto debole o comunque cerca di far presa su qualcosa ti aggancia e da lì comincia poi il suo sviluppo il suo invadere invadere che può essere comunque sia un'altra pianta che anche semplicemente una rete metallica di confine si avvinghe qualsiasi cosa che trova anche se c'è una bicicletta lì appoggiata ok e e questa pianta comincia a far su il territorio dell'altro così come la persona che abusa di potere su un'altra che può essere un abuso di potere fisico un abuso di psicologico un abuso di potere emozionale fatto sta che io invado il tuo territorio il tuo territorio diventa mio e lo gestisco io a perché può essere a perché può essere quello che penso sia giusto per la comunità b perché può essere che egoisticamente mi interessa solamente ciò che serve a me fatto sta che comunque c'è un abuso di potere così come la pianta abuse di potere su abbiamo detto su tutto ciò che si appoggia la sua evoluzione dove come arrivano comincia a espandersi e comincia a fare questi piccoli frutti che però nascono da dei fiori piccolissimi ecco vi rimostro l'immagine vedete quasi si denota già il frutto che poi sboccerà in un grappolo d'uva anche se sarà un uva abbiamo detto selvatica da questi si vedono dei piccoli fiorellini ma sono proprio minuscoli gialli che sono poi durano pochissimo ed è quello da quello che verrà ricavato poi il rimedio ecco in quel fiore lì noi ce ne accorgiamo e ce ne accorgiamo quando magari vediamo una polverina gialla coprire la macchina che abbiamo messo sotto a pergolato oppure ricoprire la strato che c'è questa polverina gialla che si che poi il polline no di questi fiori che sia che si lasciano andare ecco quello è il fiore a volte è talmente minuscolo che facciamo quasi se non stiamo attenti e non siamo curiosi di osservare magari ci sfugge la sua fioritura non ci siamo neanche accorti che già fiorito già fatto già lì che fa il grappolino e il fiore ci è sfuggito ecco in quel fiore lì c'è la parte delicata dell'animo no della persona in quel fiore in quella in quel momento veloce delicato impercettibile o difficile da da osservare da catturare da captare c'è la parte gentile la parte amorevole la parte solare la parte della delicatezza d'animo di questa persona quindi in ognuno di noi c'è un lato buono e che a volte per farlo uscire occorre avere pazienza ritrovare quella piccola sfumatura e dare fiducia a questa sfumatura quindi va in che comportamento è un comportamento totalitario e colui che decide per gli altri ma alla base di tutto ciò che è un abuso di potere quando è che c'è un abuso di potere quando in realtà all'interno di me stessa mi sento insicura fragile ho delle paure e le compenso con un atteggiamento di potere ma è un atteggiamento di potere dove io abuso di potere su quando invece la persona deve trasformare in quel fiorellino giallo ci sta anche la capacità di sviluppare il proprio potere personale ecco tutte le volte che c'è un despota che bussa potere su altro è perché in realtà c'è un insicurezza una fragilità interna dove non riesce a manifestare il proprio potere personale per cui il proprio potere personale il potere di è molto fragile e molto quasi impercettibile come lo è questo fiorellino che se non riesco a svilupparlo internamente allora è facile che io commetta questo errore di considerare il potere su e quindi sbaglio a considerare il potere sugli altri come se fosse un mio potere personale di autonomia ed è questa la lezione che deve imparare vai no ma vain ha anche un lato abbiamo detto che comunque può esercitare il suo potere solo se c'è qualcun altro che gli dà questa possibilità e quindi ha a che fare anche con l'incontro del famoso rapporto vittima carnefice quindi dove c'è un carnefice perché c'è un'altra persona che sta vivendo un ruolo di vittima quindi entrambi hanno una lezione da imparare questo non giustifica chiaramente le azioni malvagie no stiamo solo osservando energeticamente cosa sta succedendo e guardate che va in non è detto che lo si incontri solo all'esterno delle persone ma possiamo viverlo anche averlo introiettato dentro di noi quando anche da piccoli abbiamo subito il potere di qualcuno e quindi questo va in interno questo abuso di potere interno è come se ci fosse un piccolo despoto interno che ci mantiene sotto scacco matto tutte le volte che noi non riusciamo a esercitare il nostro proprio potere personale di quindi vorremmo poter fare qualcosa ma poi non lo faremo perché c'è quella vocina interna che ci dice no questo non si può perché qualcosa è successo nella nostra vita da piccoli anche semplicemente un ordine un'obbedienza bene quindi quando è che noi possiamo scardinare vai abbiamo detto che è difficile è difficile sia se siamo noi a esercitare questo potere sugli altri perché dobbiamo fare leva sulla compassione sull'umiltà e sulla gentilezza no quindi sviluppare queste virtù che abbiamo dentro ma che forse abbiamo relegato in un qualche modo o forse perché abbiamo vissuto anche noi da piccoli del abbiamo subito magari subito un potere di altre persone e quindi lo stiamo riproponendo come automatismo ed è difficile da scardinare anche quando invece siamo noi che senza rendercene conto ci autoboicottiamo nella vita quindi c'è un despoto interno nostro che ci mantiene sempre sotto scacco matto nella nostra autenticità nella nostra libertà di essere noi stessi quando è che questo viene a meno quando la parte che è vittima smette di essere vittima smettendo di essere vittima smettendo di essere servo allora il padrone non esiste più né se lo sto vivendo internamente né se lo sto vivendo esternamente e un'altra sfumatura di questa pianta è la grande capacità però proprio perché ha sangue freddo e poca empatia nel lato diciamo disarmonico però è quel lato di grande fermezza di grande capacità di risoluzione nei momenti in cui è necessario avere il sangue freddo in momenti come possono essere drammatici no? un incidente ecco questa è la persona che non si lascia prendere dall'emotività e sa risolvere le situazioni al servizio degli altri ecco questo è il valore aggiunto di questa persona questa sua capacità di restare fredda e intoccabile messa però al servizio della comunità per il bene di tutti e non solo per un proprio interesse egoistico o per una fragilità interna che spinge a voler compensare qualsiasi mancanza e a gonfiare un ego tanto come se fosse un chicco d'uva ecco questo è un fiore che ci aiuta a capire di essere più morbidi verso gli altri e entrare in empatia anche con le altre persone con il loro tessuto ma soprattutto a utilizzare questa nostra parte capace di restare al di là del campo emozionale ma per fare del bene per servizio e quindi togliersi il cappello di capo e mettersi a chinare il capo come con umiltà e dire ok il bene di tutti e non solo il mio bene con questo grappolo d'uva selvatico che comunque regala questi toni accesi bellissimi d'autunno vi auguro una buona settimana e ci rivediamo al prossimo appuntamento con il prossimo messaggio dei fiori un bacio a tutti